Note di stile. Tradurre la moda e il lusso senza inciampare. Il polso della situazione. Dopo la puntata sui colletti, ritorniamo sul territorio delle camicie analizzando nei due nobili estremità. I polsini, in inglese cuffs. Iniziamo con una distinzione generale. I polsini possono essere con bottone, barrel cuffs, o con gemelli, french cuffs. Pronti per addentrarci nell'universo dei polsini con bottone? Andiamo! Questo tipo di polsino può essere smussato, ovvero il più comune e anche il più versatile. Si distingue per i suoi angoli smussati di 45 gradi e si traduce come mitted o angled cuff. Il polsino rotondo, invece, è caratterizzato da bordi arrotondati di gusto raffinato. A seconda dell'angolo può essere chiamato anche stondato, ma in inglese rimane generalmente rounded cuff. Il polsino dritto o squadrato, più casual, presenta bordi pari e squadrati, per l'appunto. In inglese diventa square o straight cuff. E adesso veniamo ai polsini francesi o con gemelli, che per la cronaca i pragmatici inglesi chiamano cufflinks. Abbiamo il polsino francese classico, caratterizzato da un taglio dritto e spessore singolo, formale ma sformalizzabile con un paio di gemelli un po' più casual chic. In inglese si chiama classic french cuff. Per una volta è facile, ci va bene. Il classic si può anche omettere. Il polsino francese arrotondato, più informale, si distingue per l'estremità arrotondata e diventa classic rounded french cuff. Ma il polsino francese può essere anche doppio, che è il non plus ultra dell'eleganza, il coco chanel dei polsini. In questo caso è classic double french cuff. Sì, può essere anche arrotondato, rounded. Quindi double rounded french cuff. Una nota per i francesisti e le francesiste. Per evitare l'autoriferimento, in Francia il polsino francese diventa poignet manchette. Spero che questa puntata sui polsini sia stata di vostro gradimento. Come sempre potete farmene sapere nei commenti eventuali dubbi o suggerimenti. Anche per le nostre e vostre prossime note di stile. Io sono Eugenia, grazie per l'ascolto e ci vediamo tra due settimane. Grazie.